Francesco Billeri, professore di sociologia e demografia, Università di Oxford. Demografia da lenta a veloce. Siamo stati abituati a pensare che la demografia fosse una delle componenti facili nel conoscere il cambiamento sociale. In particolare la demografia era prevedibile, si muove lentamente. Questo tipo di impostazione deriva da due fattori. Uno, a lungo periodo siamo passati in una situazione demografica in cui le crisi contavano molto in termini di improvvisi cambiamenti e una volta scomparse le grandi crisi del passato questi cambiamenti improvvisi non ci sono più. Il secondo aspetto è che nei modelli anche mentali relativi al cambiamento neomografico avevamo in mente una popolazione chiusa ai flussi migratori. Quindi la demografia era lenta ed anche prevedibile. Facilmente potevamo raccogliere le informazioni a intervalli abbastanza lunghi. Essenzialmente attraverso la misura dei movimenti migratori si può documentare che il cambiamento della popolazione oggi è ritornato a essere più veloce rispetto a una situazione di lentezza che ha raggiunto il suo massimo negli anni 70 in Italia e quindi la popolazione cambia molto più velocemente. Dobbiamo raccogliere dati più continui e è più difficile prevedere i cambiamenti demografici.